ciao ragazzi grazie di essere con me oggi oggi sarà un video che non vedete molto spesso sul canale ma che mi piace molto girare, devo dire la verità ed è un video di attenzione alle orecchie, trigger sugli orecchie e cose varie quindi ci sarà un po' di close up whispering nella prima parte del video, nella seconda cercherò di farla not to kick e infine vi darò buonanotte un po' di ear touching così così con la crema e con l'olio un po' di ear cupping sia con le mie maniche che con altri oggettini un po' di brushing ok e andrò a polire anche un po' queste orecchie perché sono un po' sporchie devo dire la verità quindi vedo che dà anche un po' di suoni di polizia anche qui dietro ok 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 sentite che impregnata orecchie le mie orecchie sono pulite andiamo a fare un po' di air-dumping molto leggero molto leggero molto leggero ok 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 Ho deciso di aggiungere almeno la prima parte del video la mia voce perché i video di questo genere li trovate appalate su YouTube e quindi per renderlo mio ovviamente serve la mia voce allora cominciamo con un suono un po' particolare voglio andare ad accarezzare le orecchie con gli occhi del cactus orecchie con gli occhi orecchie con gli occhi orecchie con gli occhi Quanto è bello questo suono Mi sa che fa più effetto solo vicino Quanto è bello questo suono Ditemi cosa ne pensate di questo trigger Quanto è bello? Quindi adesso andiamo a togliere un po' di aghi Quanto è bello? Quanto è bello? Ok? Allora adesso ci teneremo un pochino il tear blowing e il tear brushing per poi passare a un massaggio rilassante con olio e crema Partiamo dai pennelli più piccoli Così possiamo andare in tutte le zone dell'orecchio Quanto è bello? Quanto è bello? Quindi da una tantissima soddisfazione i video in cui si va fino all'interno dell'orecchio Ok dall'altra parte Ok dall'altra parte Comunque volevo dirvi che molti di voi pensano che questo microfono sia il 3Dio In realtà non è il 3Dio A me personalmente il 3Dio fa impazzire devo dire la verità Accentua troppo Accentua troppo le S E già questo microfono è al limite È troppo troppo sensibile Non mi piace fare dei suoni Questo invece è un po' più delicato E adesso passiamo al brushing Questo perde i peli Passiamo al brushing Sulle orecchie Sulle orecchie Sulle orecchie Con il microfono Con il pennello Grosso Sapete una cosa che mi va un po' rapida Il fatto che quando voglio fare un video di camera brushing Mi venga sempre fuori l'effetto Per cui ogni volta che faccio brushing Dopo vi si illumina tutto lo schermo Aumento un sacco luminosità Quando invece li faccio così a caso Viene benissimo Vabbè, niente Ecco qua Ok Io su questo pennello anche sulle altre orecchie In questo caso Noi In questo caso Non ci sono Un po' di più Noi 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 il videotot è venuto con l'oggetto però ho pensato che questo video potesse essere un po' diverso dalla solita ultimamente sto facendo la mia conversione di suoi non lo so, lo state notando con i video di cooking con il rock sulla memoria e spero siete contenti che siamo ritornati alla programmazione settimanale normale e di il verde alle 19.30 questo brush è molto intenso questo brush è molto intenso ok passiamo alla parte uno tolling che ti fa so giù alle orecchie siete pronti aspettate spettate non lo so piper spettate Grazie. 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 Sì, 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 sì. 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 Spero davvero che stia piacendo questo passaggio alle orecchie. Continuerà fino alla buonanotte, cioè durante la buonanotte, cioè ora. Questa è la buonanotte. Questa è la buonanotte. Buonanotte. Buon riposo. Buon riposo. Se siete ancora belli, scrivetemi nei commenti se vi piacerebbe. Anche un roleplay di questo tipo. Sicuramente questo video lo metterò anche su Spotify. Buonanotte. 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 calispera Grazie a tutti.